La lince è tornata nel VCO. È il più raro mammifero italiano e il più grande felino europeo. È stata filmata dai militari del nucleo investigativo dei carabinieri forestali del VCO a Monte Crestese, in Valle Isorno, a circa 1700 metri di altitudine lo scorso 27 agosto. Il video mostra anche l'orario, erano le 19.20. Questo è un rarissimo esemplare di lince euroasiatica. Sono tra le pochissime immagini registrate in Piemonte del felino. I carabinieri forestali spiegano che si tratta presumibilmente di un maschio di giovane età in buono stato di salute. L'animale non veniva immortalato nel Verbano Cusiossola dal 2015, quando era stato identificato tra le valli Antigorio e Formazza. Il felino fa presumibilmente parte, spiegano sempre i militari, della popolazione di origine svizzera in espansione verso sud. Dal 2001, infatti, nell'ambito del progetto europeo Life Links, sono stati reintrodotti 12 esemplari di lince in Svizzera e in Slovenia. Si tratta di una specie di interesse comunitario tutelata da una specifica direttiva e particolarmente protetta anche dall'ordinamento nazionale, con una legge che ne impone il divieto assoluto di caccia, e dall'ordinamento internazionale attraverso la Convenzione di Washington del 1975, che l'ha inserita tra le specie minacciate di estinzione. Secondo un rapporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risultava pressoché estinta in Italia durante gli anni Ottanta. Al momento si stima una presenza di 15 esemplari sul territorio nazionale, in particolare nell'arco alpino orientale tra Trentino, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Una lince adulta pesa dai 20 ai 30 chili e lunga un metro, un metro e trenta, con un'altezza di circa 55 centimetri. Si nutre soprattutto di ungulati, caprioli, cervi e camosci, ed ha un'area di caccia particolarmente ampia, anche oltre i 400 chilometri quadrati. Ha un carattere ischivo e per questo il predatore, spiegano i carabinieri forestali, non costituisce un pericolo per l'uomo. L'attività di monitoraggio ambientale e faunistico dei carabinieri forestali prosegue con riferimento a tutte le specie protette di interesse comunitario, come grandi carnivoli, rapaci e galliformi alpini. A riguardo raccolgono anche qualunque tipologia di segnalazione.